Sono cominciate stamattina alle ore 8.35 le operazioni di abbattimento della vecchia cabina Enel di via Ferraris a Junci dopo 58 anni di servizio. La cabina fu attivata nel 1963. La demolizione è stata necessaria per fare spazio al nuovo look di Junci che passa attraverso il completamento del piano integrato per la riqualificazione del quartiere. I luoghi circostanti e la struttura sono stati isolati per consentire la massima sicurezza durante l'intervento. Sul posto il sindaco Enzo Giannone con la fascia tricolore e la polizia locale. Il comune, come accennato, attendeva ormai da molto tempo che l'Enel trasferisse altrove la cabina elettrica per proseguire lavori di una parte del piano integrato al quartiere Junci. L'ente aveva quindi scritto la prefettura di Ragusa per un intervento risolutivo. Il comune aveva in un atto una convenzione con la regione Sicilia e due ditte private destinatari di un finanziamento pubblico per la realizzazione, tra l'altro di alloggio a canone sostenibile e al miglioramento del decoro e dei servizi nell'ambito del quartiere Junci. I lavori inerenti, le opere di urbanizzazione da qualche mese, si legge in una nota del comune, hanno dovuto subire un'interruzione per via del necessario trasferimento di una cabina elettrica di proprietà dell'Enel. Grazie a un atto di permuta di un'area del comune, prosegue il documento, l'ente sciclitano si è impegnato a cedere un'area di sua proprietà all'Enel per l'installazione di una nuova cabina e l'Enel, dal canto suo, si è impegnata a dismettere la cabina esistente e a realizzarne una nuova. L'accordo era stato sottoscritto nel luglio scorso, ma solo ultimamente la società Enel ha provveduto al trasferimento, da qui ora, il coinvolgimento della prefettura di Ragusa. Tanti, curiosi, che hanno assistito alla demolizione di un pezzo di storia del villaggio Yunci, molti dai quali persone anziane del posto.